Nella mattinata odierna i finanzieri dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari e Napoli e del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata hanno eseguito nell'Interland partenopeo sette misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta delle direzioni distrettuali antimafia nei confronti di due persone rispettivamente classe 90 e 87, entrambi già detenuti in carcere in quanto ritenuti gravemente indiziati della Commissione dei Reati di Trasferimento Fraudolento dei Valori, Reciclaggio e Autoreciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso e finalità agevolative del sodalizio denominato Clan Orlando. Contemporaneamente, per le medesime ipotesi di reato è stata data esecuzione alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di altri due soggetti, uno dei due per il solo delitto di turbata libertà degli incanti, per aver interferito sul regolare svolgimento di un'asta giudiziare in una procedura esecutiva immobiliare, determinando un rialzo del prezzo di vendita di un appartamento sito in Marano, onde impedirne l'acquisto da parte di una persona che vi partecipava in buona fede. I provvedimenti cautelari scaturiscono da indagini coordinate dalla Procura di Napoli, avviate a partire dal mese di aprile 2019 nei confronti di un gruppo di narcotrafficanti, composto da soggetti campani e sardi, che avevano organizzato il trasporto di ingenti quantitativi di hashish sull'asse Napoli-Medio Campidano. L'esame della documentazione acquisita nel quadro delle cennate indagini e l'arricchimento delle stesse attraverso accertamenti bancari e patrimoniali ha consentito di ricostruire molteplici e sistematiche operazioni di acquisto di beni mobili e immobili, anche mediante la turbata libertà degli incanti in procedure esecutive, nonché di attività commerciali compiute tra il 2014 e il 2018, reciclando e riempiegando i proventi dei reati commessi e intestandoli a compiacenti prestanome. Questi ultimi sono stati totalmente asserviti agli illeciti affari del principale indagato, inserito nel sodalizio camorristico degli Orlando e gemone del comune di Marano, in provincia di Napoli, con i cui pleni potenzari egli intravendeva frequenti e stabili rapporti. Gli indagati, al fine di schermare i beni illegitamente acquistati, hanno altresi impiegato una persona fisica nell'acquisto di un immobile da una società riconducibile al cognato dei fratelli di diverso cognome per errore alla nagrafe, Nuvoletto Antonio e Nuvoletta Filippo alias Ocecat, esponenti di spicco dell'omonimo sodalizio camorristico del clan Nuvoletta.